Due auto si scontrano sulla statale 17 fra Sulmona e Pettorano Sulgizio a due passi della stazione di servizio Tamoil. Si tratta di una Fiat Punto guidata da un anziano e una Lancia Y con a bordo un giovane. Fortunatamente il bilancio dello scontro non conta feriti. I passeggeri sono usciti praticamente illesi dalle loro auto. Secondo le primissime informazioni la Fiat Punto si è immessa sulla statale da Pettorano, la Lancia Y invece era diretta verso Roccapia. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi di rito, ancora incerta la dinamica dell'incidente. Il tratto della statale 17 fra Sulmona e Pettorano rimbalza spesso agli onori della cronaca e diventa in continuazione teatro di numerosi incidenti, anche mortali. Lì lo scorso mese di ottobre perse la vita un incendiante sulmonese. Stessa sorte toccò qualche anno prima a un ciclista. In molti in queste ore tornano a chiedere più sicurezza. Grazie. Grazie.